Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento Metodi TRG. Andiamo ad analizzare la situazione per quanto riguarda la nostra penisola, situazione che vedrà un espandersi dell'alta pressione proprio sull'Italia per i prossimi giorni. Quindi a partire da domani, tempo più stabile che si protrarrà per tutta la settimana con temperature sia minime che massime in aumento. Non avremo i valori termici della settimana passata quando abbiamo raggiunto anche punte di 38-40 gradi ma comunque avremo valori pienamente estivi e un'umidità maggiore alla settimana precedente. Quindi temperature calde per tutta la settimana. Vediamo ora nel dettaglio cosa accadrà per martedì 30 luglio giornata che come detto sarà abbastanza soleggiata fin dal primo mattino su tutto il territorio regionale. Solamente nell'area appenninica, nelle ore centrali da giornata, soprattutto nel primo pomeriggio potremo avere annuvolamenti più consistenti e qualche isolato rovescio. Nel resto del territorio regionale come detto invece i cieli si manterranno poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi. Avremo sia le temperature minime che le temperature massime in leggero aumento con le minime che si attesteranno intorno ai 18-20 gradi mentre le temperature massime saranno comprese fra i 28-30 gradi. Punte sopra i 30 gradi nelle ore centrali da giornata in tutte le pianure della regione. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.